Hi guys, falla galerola chicos, ciao ragazzuoli miei, benvenuti in questo nuovo video, sbaglio sempre a dirlo E in questa nuova gara iniziamo subito con dei bidilli a caso e dei rallentamenti, così Veramente a caso, scendiamo così, impicchiata ragazzi, e non so che cosa c'è veramente Ok c'è una rampa, vediamo un po', forse un loop, si è un loop ragazzi Non avevo capito bene, iniziamo così col botto, con la nostra T20, bene così di turbo E poi c'è quella parte, ok, c'è turbo, turbo ragazzi Mi sono mangiato un attimo una air, bello, bellissimo E ti viste ragazzi, proprio al contrario eravamo Oh rallentamento qui, non me l'aspettavo, no no no, ah non devo andare sul turbo, ok Mi sono messo, ho detto un attimo che cazzo sto a fa' Ok ora riproviamo qui un altro saltone Eh salto epico ragazzi, facciamo qualche bella acrobazia, vediamo un po' che riusciamo a fare C'è anche altra gente che prova acrobazie come me Andiamo facciamo anche qualche, questo qualche pirouette Per non farcele mancare, oh dove cazzo è arrivato quello? Eh ragazzi perché è stato bene, è stato molto furbo Qui, oh bellissimo, un ride al volo, speriamo che l'auto riesca a mantenere la trazione Sì perfetto, perfetto così Dai 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 dai, c'è uno al primo posto che è la stessa, la stessa T20 mia Stesso colore, vediamo un po' raga di recuperare questo Sfruttiamo un po' questi cordoli Ci siamo, ci siamo, secondo posto abbiamo recuperato questo qui Bellissimo, bella sta gara raga, bellissima veramente sta gara Questo ha fatto uno stand, vediamo se ha fatto una scelta giusta Si sale, si sale, altri turbo Ok, ancora in un turbo, altri turbo Megatubi esagerati ragazzi, rosso Bello, bello, mi piace Questo è sbagliato un po', è andato un po' storto Uh, si è ripreso, sembrava che dalla telecamera forse stava buggando Sembrava che non fosse entrato Uh, ce la faccio qua entrare Sì ragazzi, è pochissimo, ma ce la faccio Giusto, giusto, chi è questo dietro? C'è uno dietro con lo Cyrus, che ha fatto un recupero enorme qui Sbattiamo qui, ok, perfetto Già c'è il traguardo, no? Sì, spirale raga, spirale Oh, 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 cazzo Ah, war ride, ragazza, spirale Non so, come cazzo mi sto salvando raga Altra spirale Dove cazzo, non so, altro war ride, ragazza, spirale Che cazzo è? Non finisce più raga, non so dove cazzo andare Ok, io continuo, continuo Non finisce più raga, non finisce più Oh, cazzo, non finisce davvero più Oh, bellissimo, bellissimo Complimenti al creatore, agit, agit, pedro Parabens, bro Ottima prima posizione Mi piace, ragazzi Passiamo alla prossima gara Eccoci qui, ragazzi, alla seconda gara Di CCC Mega Turtle Boss Ragazzi, una gara nuovissima Non ancora valutata Quindi non so neanche se sia perfetta Perché ho visto che CCC l'ha pubblicata sul social club Qualche minuto fa, praticamente Proviamola noi, testiamola Così in anteprima Magari a Belgine Vediamo un po' di cosa si tratta C'era scritto Osiris Best Io volevo usare la mia nuova Anis R7B Però, purtroppo Devo, raga, devo pensare anche Devo pensare anche andare qui nel muro Ok, siamo scansati un bel po' di Di palme, di pali Dribbling alla Alla Mertens, ragazzi Attenzione Vediamo un po' di recuperare Perché ho detto Mertens, proprio Comunque, raga Non so se tutti si intendono di calcio Attenzione Qui, vabbè, qui è un classico Di tantissimi circuiti Che abbiamo già visto Che culo qui sulla panchina, raga Abbiamo avuto un buon rimbalzo E dai, dai Osiris, dai Sembra che c'è il culo pesante Ok, perfetto Qui c'è un muro bianco Che qua dobbiamo girare, ovviamente Per farcelo capire Dai, dai, veloce, veloce, veloce Iniziamo, ragazzi, con gli istanti Perché la mia Osiris Fa più lenta delle altre Ma mi sto incazzando, eh Oh, cazzo, daga No, che cazzo è successo Oh Mi ho preso la rampa dritta come era Andiamo un po' a dipendere bene sta rampa Dai, dai, porca Eva Oh, cazzo, daga, non si capisce un cazzo Ok, perfetto Ora, perfetto Ora mi piace Qui, qui, qui Andiamo per come ci porta il turbo Bello, bello, bellissimo Oh, what? What? Serio? Davvero? Cioè, riusciamo col tetto a salire No, raga, incredibile Cioè, riusciamo col tetto a salire Rimaniamo su questa linea gialla Raga, col tetto Stiamo salendo col tetto Incredibile Dai, dai, facci la faccia No, raga No, non ho mai visto una cosa del genere Si sale col tetto Cioè, raga, veramente assurdo Non avrei mai pensato a una cosa del genere Grandissimo C'è, c'è Congratulation, bro Bazz No, ma Uh, quella del tubo Ragazzi, abbiamo passato poi vicino Dovremmo cercare di andare dritti Di stare più dritte possibile Ma l'auto purtroppo gira Quando Non so se ci fate casa Io sto premendo Acceluratore Basta Dai, dai, che ci siamo questa volta Dai, che ci siamo Oh, eh, sì che ci siamo Mamma mia, ragazzi Che, che fantasia, porca Eva Che fantasia Intanto lo sai Se è al massimo della velocità Cioè, i turbi funzionano Il turbo funziona anche in assieta così Col, col cofano Quindi, stupendo Per qui, tubo semplicissimo Bellissimo Congratulation, bro Non me ne fotti un cazzo La decima posizione, ragazzi Ma merita questa gara Veramente merita Quindi noi No, che cazzo è lì? Che stavo succedendo? Stavo buggando tutti con lui Ancora, raga Che spettacolo Spettacolo, spettacolo Congratulation Amazing, amazing Amazing, mate Mamma mia, ragazzi Veramente stupendo Oh, cazzo Aspetta, aspetta No, no, no Doveva cazzo vai Stavo impazzendo l'auto, ragazzi Ok, ora Qui facciamo un giro Siamo all'ottavo posto Eh, qua devo fare un altro giro, ragà Ragà Che cazzo sta succedendo? Non esplodere Oh, che salvataggio Eh, non ho preso il turbo qua Vabbè, riproviamo così No, vabbè, ma assurda No, gara assurda, veramente Gara stupenda Di Cccc Veramente congratulazioni Ma cerchiamo a lavorare almeno di Arrivare a una buona posizione Qui c'è un buon ride Sì, sì Capito bene E c'è già il traguardo lì Quindi, raga Andiamo a chiedere in settima posizione Va bene così Sti cazzi Mi piace veramente Mi piace veramente tantissimo Sta gara Ovviamente vi lascio tutti i link In descrizione delle gare Se volete giocarle Passiamo l'altra Eccoci qui, ragazzi Alla terza gara Di Trigger Happy Un famosissimo creatore Sulla Playstation 3 Che ora si è trasferito Sulla 4 Proprio in tempo Per costruire queste stunt race Ragazzi Questa è la sua prima gara Sulla Playstation 4 Quindi vediamo Come ha debuttato Trigger Happy Trigger Happy Yes Una cosa del genere Vediamo subito Una piattaforma enorme lì Dai, dai, dai Dobbiamo riuscire A vincere Questa Anche questa gara La prima è andata bene La seconda Nota male Ma la gara di Cicci Era enorme C'era stupenda Allora qui ragazzi Abbiamo Uno Uno spirale L'ho mancato il turbo Sta un po' pagando il gioco Che cazzo Uh, uh Si gira l'altra parte Cazzo No, no Non perdere L'aderenza Stava perdendo L'aderenza La mia Anis Bene così Uh, cazzo Com'è volata quella No, raga Non ce la fa Non ho capito Perché non ce l'ha Non ce l'ho fatta lì Riproviamo col turbo Forse era Una cosina di turbo Guardate il gioco Come cazzo Glitcha, raga O forse avevo perso Aderenza lì E la macchina A te ha perso Troppa velocità Vediamo un po' Se era questa la ragione Credo di sì Però vediamo un po' Uh Ok Ce la faccio Proviamo anche un front flip Raga Penso già che i sogni di gloria Per il primo posto Siano andati a farsi fottere Ma, vabbè Sti cazzi, raga Non fa niente Vediamo qua la gara com'è Ci porta a quarto Quinto posto Vabbè Ma ne tubi È tutto buggato Ok Vediamo un po' Ancora tubi rossi Andiamo 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 Concentrati Raga Cerchiamo di recuperare Almeno qualcosa Non so la gara Se è difficile Se è possibile recuperare Dalla descrizione C'è scritto Di premere R2 E andare veloci Quindi Non credo sia qualcosa Di tanto particolare O Difficile Ecco Quindi Incrociamo le dita Vediamo un po' Se riusciamo a fare qualcosa Lì non credo sia stata colpa mia A meno che comunque la macchina Uh Al limite Proprio al pelo qui Decimo posto Forse qua anche era meglio Usare la T20 E l'Osiris Anche perché raga Dovete sapere che la T20 e Osiris Vanno molto meglio Nei tubi Vanno molto più veloce La T20 e l'Osiris Che queste auto qui Cioè Che la Hannis O la Tyrus O altre Quindi Non chiedetemi il perché Ma è così È così Sicuro al 100% Ho fatto Svariate gare Magari Anche voi che avete provato Avete Vi siete accorti di questa cosa Quindi No comunque la gara è questa Quindi siamo al secondo giro Decimo posto Credo che Andrà male anche questa Però sti cazzi raga Comunque una bella gara Anche questa Ovviamente molto più semplice In confronto a quella di CCC Però è bella anche questa Onestamente Ok Vediamo un po' di recuperare Almeno qualcosa Qualcuno sbaglia qui A meno di arrivare un'altra volta A queste fazioni Tetre Cioè ma il primo posto Sa 30 secondi di distacco Come cazzo facciamo Per colpa di uno sbaglio raga Abbiamo perso troppo tempo Anche perché guardate I checkpoint sono molto distanti Tra di loro E quindi praticamente Appena si sbaglia qualcosa Si è fottuti Ecco Semplicemente Proviamo a recuperare Ci sono due t20 avanti a me Se non sbaglio Proviamo di recuperare Arrivare almeno al Sesto posto Ma almeno una cosa del genere Anche se è veramente difficile Sbagliare qua Perché se sbagli sei un noob Veramente Perché guardate ragazzi Cioè vi voglio far vedere Premo R2 In questo caso la facecam Sarebbe stata perfetta Cioè io sto premendo R2 E basta Cioè senza premere neanche Senza sterzare Senza muore nulla E l'auto va La va da sola Tranquilla Così Spero che comunque Queste gare vi siano piaciute Ragazzi ovviamente se Avete apprezzato Mi merito il like Vabbè a parte scherzi Fate come volete Quello ho già concluso Cioè già hanno concluso tutti Ragazzi Sto sfidato in un palo Se non l'ho visto male Nono posto Vediamo se riusciamo a recuperare Mi pare un po' difficile Recuperare però Ragazzi sti cazzi Sti cazzi davvero Siamo all'ottavo posto Cerchiamo di fare sto warride Di prenderci almeno Quest'altro posto qui Ce la facciamo? Ce la facciamo ragazzi Vediamo un po' Penso di no Penso di no Vediamo un po' se ci riusciamo L'ottavo posto per noi Quasi confermato Vediamo un po' Che lui si Ok ragazzi Ottavo posto va bene così Sti cazzi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto E ovviamente Ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Falou